Io a me piace Mertens, devo dire la verità, e a Alan mi piace da morire. È un mio pensiero, eh, voglio dire. Sono due giocatori che vedrei benissimo all'interno. Peraltro tireresti via due giocatori alla concorrenza. È vero che quest'anno il Napoli non ha fatto benissimo, ma resta una grande squadra. Io Alan lo prenderei in tutte le mie squadre, sinceramente, visto che non alleno in Serie A.